Si procura una ferita profonda alla mano con il coltello e si trova costretto a curarsi presso l'ospedale di Popoli. L'ingresciosa e spiacevole vicenda è accaduta nel primo pomeriggio di oggi a un docente di Sulmona. L'uomo si recato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per farsi medicare. Dopo un'ora di attesa è stata solo fasciata la profonda ferita che ha riportato. Per i punti di sutura gli è stato riferito che ci sarebbero volute almeno quattro o cinque ore. Una valutazione che non ha convinto il docente tant'è che con tanto di ferite e di dolore si è messo alla guida della sua auto per farsi medicare all'ospedale di Popoli. Sembrerebbe che al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona era in servizio in giornata solo un medico, un episodio che ha provocato lunghi tempi di attesa e disagi. Arrivato al nosocomio di Popoli in circa un'ora e mezza il paziente è stato preso in carico da un ortopedico che ha verificato la sussistenza di lesioni tendine. Vista l'entità della ferita il docente ha rimediato 10 punti di sutura, 8 esterni e 2 interni. Proprio non è discorso, i pazienti avevano denunciato lunghi tempi di attesa per le prestazioni effettuate al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Saranno il TDM e cittadinanza attiva nei prossimi giorni ad avviare delle verifiche interne. La decisione è scaturita dopo un summit che si è tenuto nei giorni scorsi a Pescara con l'Agenzia Sanitaria Regionale.